Buonasera, pronti per un capodanno da urlo? Io quasi. Allora avete già pensato sicuramente a dove andare, ma a cosa preparare? E adesso ecco che ci penso io ad aiutarvi. Seguitemi! Per questa ricetta utilizzeremo delle mini gallette di mais, del formaggio spalmabile e della farina di pistacchio. Andiamo! Prendiamo una ciutellina e andiamo ad inserire il nostro formaggio fresco spalmabile. Adesso mescoliamo per andare a ammorbidire il nostro formaggio. Una volta ammorbidito andiamo ad aggiungere la nostra farina di pistacchio. Io vado ad occhio perché l'adoro e iniziamo di nuovo ad amalgamare. Vi svelo un piccolo trucchetto. Quando il nostro composto sarà pronto, inseritelo all'interno di un sacchettino, quello anche che si usa per congelare il cibo. E lo utilizzeremo tipo sac à poche. Per aiutarci va bene anche un bicchiere. Per aiutarci va bene anche un'altra ricetta. Per aiutarci va bene anche un'altra ricetta. Per aiutarci va bene anche un'altra ricetta. Adesso prendiamo un piatto e andiamo a posizionare le nostre mini gallette. Potete utilizzare anche dei crackers piccolini oppure anche un pan carrette tagliato proprio a cerchietti oppure altri salatini. Andiamo a prendere il nostro composto. Lo andiamo a pressare verso il fondo. Andiamo a prendere le nostre gallette, il nostro composto e lo andiamo a versare. Grazie a tutti. Adesso per la decorazione utilizzeremo sempre un po' di farina di pistacchio oppure di granella, qualche pomodoro e la nostra rucola. Andiamo a versare un po' della nostra cremina all'interno anche del nostro pomodoro. Grazie a tutti. 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 tv o il nostro canale youtube da tutto lo staff la prima tv buone feste e buon anno arrivederci